Il 31 dicembre per i 70 lavoratori della BOL non sarà solo la fine del 2018, ma rappresenterà soprattutto il giorno in cui l'azienda di San Martino sulla Marrucina chiuderà definitivamente i battenti. Questa mattina i rappresentanti sindacali dei lavoratori, le organizzazioni territoriali FIOM, CGL, FIM, CISL, i vertici della BOL, i rappresentanti della Regione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e quelli di Confindustria e di Pescara Chieti hanno firmato l'accordo per accompagnare l'uscita dei 70 dipendenti dello stabilimento Tiatino, come ha spiegato Andrea De Lutis, segretario della FIOM CGL di Chieti. Siamo riusciti dopo anche lo strappo di due notti fa presso il Mise a ricucire il Tauro. La Regione ieri, in un primo incontro, ci ha aiutato a ricostruire il Tauro. Oggi abbiamo steso, abbiamo scritto una pagina per mettere fine a questa vertenza che ovviamente qualsiasi accordo non può soddisfare la perdita del posto di lavoro, però abbiamo cercato di soddisfare le esigenze dei lavoratori portando a casa un discreto incentivo economico e poi l'impegno dell'azienda a favorire la reindustrializzazione del sito nell'arco dei 24 mesi. Questa era la cosa per noi più importante perché la parte economica è vero che è importante, ma in un territorio come il nostro dove manca il lavoro, la cosa più importante è cercare di ricostruire lavoro alle persone e l'accordo che abbiamo fatto va nell'ottica della reindustrializzazione del sito. Niente cassa integrazione dunque, ma incentivi economici a tutti i lavoratori che riceveranno 8 mensilità per chi ha da 0 a 5 anni di anzianità di servizio, 11 mensilità per un'anzianità da 5 a 10 anni e 13 mensilità per chi ha all'attivo più di 10 anni di servizio. Gli over 50 avranno inoltre ulteriori 3.000 euro, mentre chi deciderà di trasferirsi in altri stabilimenti BOL percepirà la metà delle mensilità indicate nell'accordo, conservando però il posto di lavoro in un'altra sede italiana o estera. L'intesa siglata stamattina impegna inoltre l'azienda a reindustrializzare il sito. Dorato Di Camillo, della Fimcisla di Chieti Pescara. Oggi abbiamo un sostenzioso aiuto economico che prevede di base una media incentivazione che va dalle 50 alle 60.000 euro l'orde e permette un percorso di rinserimento attraverso le politiche attive dell'Associazione Industriale e della Regione Abruzzo. Abbiamo chiuso una pagina molto triste di storia dal punto di vista sindacale perché l'aspetto più terribile di questa vicenda è stata l'arroganza dell'azienda, riusciamo però alla fine a trovare un accordo che riesce in parte a rispondere alle esigenze dell'oratore che non quello soprattutto economico.